Siamo in generale, però è una buona cantina. Dottore, ma non è pericoloso che voi siete stati a contatto con dei positivi e siete senza tutte le protezioni all'esterno? Sì, siamo stati a contatto con dei positivi, questo è il futuro. Però non sappiamo niente, ho avviso a scopare pure da un bosco. Ma quindi siete aperti adesso? Ma da dove entrano i pazienti? Da qua. Ci sono le macchine, cioè non arrivano con l'automunanza? E dove passa? Buongiorno! Non lo vedo come avete dovuto mettere la vostra macchina, per la vita che la gente... Eh beh, perché è ancora cresci, questo sta pulsare, però è ancora carattina. Dottore, ma non è pericoloso che voi siete stati a contatto con dei positivi e siete senza tutte le protezioni all'esterno? Sì, dottore, sono stati a contatto con dei positivi, questo è il futuro. E' quando è arrivata l'automunanza, però? L'automunanza, c'è la barriera di biocontenimento. I paramedici che sono venuti prima non l'hanno dovuto mettere dentro? Cioè con le tute, le tute non hanno avuto contatti? E loro sono coperti, ma qual'è il problema? No, è che se noi siete gli unici che non avete guanti e protezione... No, noi non tocchiamo nulla, noi siamo fuori. Ma banyak not sure č bereits quando aveva nessuno che ci sento la via. Si lo 타 Metal non era bravo. No, noi stiamo praticamente. Prendiamo anche in fondo alle att Itu Canvas de parlare dei primi giorni che 10 e cinze oreこれi restano non si sbagliato, non sono stati a sincehold. Non mi fa vedere ciò, non mi fa vedere ciò. Io con il personale tolgo. Il gestore del generale, che hanno dato un'altra storia, questa mattina, da 50 anni, da 50 anni, se volete, se volete, se volete. Hanno aspettato l'ambulanza, perché la pista dell'ambulanza non è andata. Quando non c'è stato che scelgo dall'ambulanza, erano tutti buoni andando fuori, e quindi, ha avuto un'altra storia. E quindi, ha fatto il dolce. E poi, ha fatto calma. Calma, calma. Faccia calmando. Non ciò che dare più qualche cosa è sulla patina. Ciò da aprire più della patina. Grazie a tutti